Tornerà ad essere finalmente fruibile, dopo i tanto attesi lavori di ristrutturazione, il ponte ciclopedonale sul Tordino che collega il Comune di Giulianova con la frazione di Roseto-Cologna-Spiaggia, rimasto chiuso per alcuni mesi al fine di consentire l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria, ritenuti necessari a causa delle pessime condizioni della pavimentazione e delle alzate laterali. Il Comune di Giulianova, delegato dalla regione ad eseguire i lavori di manutenzione straordinaria su entrambi i versanti, ha ultimato gli interventi finanziati nell'ambito del progetto Bike to Cost. Ora tutto è passato nelle mani della provincia di Teramo che in questi giorni ha anche eseguito le prove di carico e di stabilità della struttura. Un'opera di riqualificazione molto attesa visto che il ponte rappresenta un'importante via di collegamento per residenti e turisti. Manteniamo i patti presi con i cittadini e quindi abbiamo rimesso in ordine il ponte che collega Giulianova a Roseto, abbiamo terminato anche le prove di carico e quindi siamo assolutamente sicuri di poterlo riaprire in totale sicurezza e ci concentriamo adesso sul completamente la Bike to Cost con un finanziamento europeo di circa un milione di euro che gratifica e premia la città di Giulianova. Abbiamo ereditato questa situazione come tante situazioni drammatiche nel 2019, ci siamo messi a lavorare, abbiamo intercettato i fondi e in più siamo riusciti ad ottenere un ampliamento dei fondi con un finanziamento regionale di ulteriori 160 mila euro per quelli che sono gli arredi urbani. Finalmente il ponte di insicurezza è rifatto, abbiamo fatto prove di carico per l'assoluta tranquillità e per i prossimi anni possiamo dormire sonni tranquilli, abbiamo risolto un problema non solo per il Comune di Giulianova ma anche per il Comune di Roseto perché c'erano tantissime persone che da Cologna vengono, gravitano su Giulianova e quindi abbiamo risolto anche questo problema. Decisa la data della riapertura? No, la riapertura non l'abbiamo decisa ma lì puntiamo a completare, siccome è la stessa ditta, l'appalto è unico, puntiamo a chiudere anche i lavori della Bike to Cost su Lunga Mare Monumentale e a quel punto saremo pronti per inaugurare sia il tratto centrale che il ponte ciclopedonale.